esiste la crisi del cinema l'ultima inchiesta d'oxa ha stabilito che non esiste crisi del cinema quando i film sono di qualità vi ricordate la grande guerra una superba interpretazione di alberto sordi diretto da mario municelli il regista campione d'incasso 1976 con il film amici mili dopo 18 anni mario municelli e alberto sordi si ritrovano insieme nel film più importante di questa stagione cinematografica un borghese piccolo piccolo che adesso sono io spaziani t'ho riportato quella roba allora cosa ne pensi non voglio più essere profano sei tu dunque pronto a ricevere la luce lo sono un film che sublima le virtù e i dell'uomo comune mi scade una campiana fregatene pensa salute ricordate quando uno c'è la salute non è mai povero ricordatelo papà papà che è questo è per me e la convocazione per che sa mamma mia dovete io già mi comincio a cacassò mario non fare così mannaggia quando fai così sembra di tua madre e che c'entro io con quello che fa lui ma perché non è il tuo figlio un film ricco di umorismo e nello stesso tempo sconvolgente per la forza d'urto dei suoi avvenimenti drammatici chi so ma che fanno un borghese piccolo piccolo girati che è la penna no è un rito spaziale è come uno scherzo vero una cosa così vero chi scherzo è una cosa seria si vieni con me si e vai ma vai e vai ma vai ma no ma io l'ho preso ero sicuro vovo sentivo ci siamo eh questo è il tema scritto che darà la tua figlia Hai sentito? Madonna mia! Madonna mia bella! Grazie, grazie che bello! Un borghese piccolo piccolo Un film nuovo, un film diverso Un film che vi divertirà e vi commuoverà Amalia, sta tranquilla, sta tranquilla che non scappa No, non me scappa Adesso me ne devo andare, poi te ne racconto tutto Devo andare in strano che è tardi, sai Tieni, bevi la medicina, ma poi te ne racconto tutto Quando ritorni, te ne racconto tutto Aiutami! 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 Grazie a tutti! Questa! Questa! Grazie a tutti